Al porto si sciopera, tutto confermato, nessuna variazione di programmi dunque, dopo la convocazione delle parti da parte della regione Calabria. Sciopero doveva essere, sciopero sarà. L'unica variazione è che oltre al fermo dell'attività nel terminal gioiese, i portuali hanno programmato una manifestazione davanti alla sede del consiglio regionale della Calabria, con l'inizio a mezzogiorno di domani. Due ore più tardi è in programma la riunione per un esame della situazione convocata dalla Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio alla presenza dell'assessore russo e del commissario straordinario dell'autorità portuale Andrea Agostinelli. Dei segretari delle categorie dei trasporti di CGL, CISR, UGL e SUL e ovviamente di MedCenter Terminal Container. Questa, a fine maggio scorso, aveva avviato le procedure per attivare il ricorso alla cassa integrazione per ben 442 portuali per crisi aziendale. La normativa vigente emette un termine alla trattativa e la data finale è fissata al 25 di giugno. Domani dunque tutto sarà nelle mani di Oliverio che dovrà tentare una mediazione tra la richiesta delle organizzazioni sindacali che hanno chiesto l'applicazione di un contratto di solidarietà e quella di MCT che invece punta alla cassa integrazione per crisi aziendale.